Si annunciano battaglie legali per cercare di convincere RFI a rivedere il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Il ricorso alla magistratura potrebbe infatti essere l'unico modo per evitare che sui territori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura piovano decisioni non condivise. L'ultima doccia fredda arriva dall'assenza totale di considerazione delle varianti al progetto di RFI, come quella dell'interporto, presentata da comuni e comitati e totalmente ignorata al tavolo del Comitato Via per la valutazione di impatto ambientale e che ha scatenato rabbia e delusione in cittadini e amministratori. Dunque ora la battaglia contro il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma si sposta sul piano legale. Dopo il CONFER, Comitato Ferrovia, anche il Comune di Chieti infatti si dice pronto a coinvolgere la magistratura, come spiega Ermo Dastolfo, portavoce del CONFER. Evidentemente si inizia a prendere sul serio questa situazione. Noi l'allarme l'abbiamo lanciato dal primo momento. Noi ci siamo già attivati presso la magistratura di riferimento, ma come Comitato. I comuni non hanno scelto all'epoca di seguirci in questa linea parallela perché forse non ritenevano all'epoca, come ritenevamo noi, che questo discorso dovesse andare a finire anche su binari diversi rispetto a quelli tecnici e diciamo prettamente progettuali. Questa battaglia era iniziata con un obiettivo che non era quello di ostacolare interamente il progetto del raddoppio della linea ferroviaria, ma di cambiare il progetto di RFI. Alla luce del fatto che RFI non ha preso in considerazione le varianti presentate da Comitati e Comuni, il tiro di questa battaglia si sposta dal no al progetto di RFI al no totale all'opera? Purtroppo è cambiato in maniera radicale perché noi abbiamo sempre chiesto e dato, soprattutto dato collaborazione, tant'è che uno dei tanti errori fatti a livello progettuale è stato riconosciuto, quello della rotonda lungo la statale Tiburtina numero 5, quello è uno dei tanti clamorosi errori. Non esiste una soluzione sul monavezzano, qui si parla di milioni di euro, comunque sono soldi nostri, non è che se vengono dall'Europa, sono sempre comunque fondi nostri che abbiamo inviato prima su e poi scendono giù e loro vorrebbero gestirli in maniera impropria. Quindi noi torniamo a ribadire no totale all'opera, a questo punto non accettiamo assolutamente nessun tipo di aggiustamento o pezza di ricucitura qualsiasi. Come cambierà quindi la battaglia a questo punto, vie legali e cos'altro? Vie legali, stiamo chiedendo ai cittadini di intervenire anche attraverso un piccolo budget sul pagamento degli oneri delle tasse, quindi voglio dire forme tipo il 5 per 1000, forme riservate anche, perché abbiamo incaricato anche un esperto ed uno studio di consulenza per la valutazione dei costi benefici, quindi se quello è il punto nodale della questione noi lo ritiriamo in ballo di nuovo, cioè non c'è soltanto il discorso progettuale ma c'è il discorso contabile di fattibilità. Spendere tutti questi soldi dà benefici? No. Perché lo si vuole fare per forza? Qualcuno dovrà indagare e indicarci la ragione e la motivazione.